a una prima occhiata possono sfuggirti ma sono ovunque ti lanciano un sorriso quando non c'è niente per cui sorridere ti danno un'informazione ancora prima che tu la chieda ti riconoscono abiti a due isolati da loro in famiglia è la zia che continua a chiederti se sei felice a scuola è la bidella che ti mette da parte la merendina prima che suoni la campanella della ricreazione in ufficio è il primo collega ad accorgersi che sei un po giù e al distributore del caffè seleziona quello che preferisci tu di sicuro tra i tuoi amici ce n'è almeno uno sono gli angeli terreni persone in carne e ossa come te e come me in missione speciale sul nostro pianeta non importa quale sia il loro credo se siano uomini o donne single sposati bimbi giovani adulti non importa il loro compito è spargere semi di luce amore incondizionato pace consapevolezza risveglio toccare le anime delle persone che incontrano e guarirle con un gesto una parola un abbraccio parlare di spiritualità e non di religione di verità e non di dogmi accompagnandoti con le parole in altre paradisiache dimensioni Grazie per la visione!